Cinque cartelli e scritte divertenti Avviso, non rimuovere questo avviso È stato messo qui per avvisarvi Va bene, non lo farò Auguri ai con l'h nostri due anni inieme Cosa che dopo questo lui o lei l'ha lasciato È abbastanza inquietante Disporsi a spiga di pesce Certo, a spiga di pesce Vabbè, è uguale, ci siamo capiti Spaghetti bolognese Spaghetti olio-olio Spaghetti con pomodori Spaghetti con salsa Spaghetti con burro Spaghetti carbonare Pene con pana Pene con pana e prosciutto Quando leggi questo sai già che non potrei aspettarti Una grande qualità del cibo Dessert Prematurato di cioccolato croccante Alla supercazzola come se fosse Antani Questo è un modo originale di dire Che il dolce in questo ristorante non c'è Quindi non glielo chiedete